Buongiorno, bentrovati, benvenuti alla Ressina Stampa, siamo in diretta, sono le 7.30, come sempre ogni giorno apriamo con voi la giornata e sfogliando i giornali che troverete in edicola facendo una panoramica sulle principali notizie in esso in loro contenute e naturalmente procediamo anche con il nostro solito almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo per vedere che cosa ci aspetta nelle prossime ore guardiamo quindi il santo del giorno, oggi è San Martino di Porres, un domenicano, giovedì appunto 3 novembre, il sole è sorto alle 6.47 e tramonterà alle 16.56 Bene, previsioni del tempo direi che per la giornata di oggi non sono molto confortanti vedete nella cartina ampiamente rappresentata la situazione, nuvole minacciose e molto grigie, pioggia e anche temporali quindi questa è la situazione per oggi su tutta la regione Marche l'unica consolazione è che nella tarda serata ci sarà un'attenuazione di questi fenomeni e quindi temporali e rovesci in tutta la regione per tutto il giorno quindi domani dovrebbe teoricamente essere una giornata migliore visto che verso sera migliora la situazione e quindi per domani il cielo potrebbe essere parzialmente nuvoloso con diminuzione della nuvolosità anche nel pomeriggio ulteriore però perlomeno le precipitazioni non sono date quindi nessuna precipitazione, le temperature risaliranno di qualche grado per sabato vedete il cielo irregolarmente nuvoloso quindi un po' di irregolarità però le precipitazioni dovrebbero riguardare soltanto il crinale appenninico deboli e sparse però più che altro appunto nelle zone interne sulla costa dovrebbe esserci questa situazione di variabilità per i giorni successivi sempre appunto all'insegna dell'instabilità per così proiettandosi nell'inizio della settimana verso martedì dovrebbe esserci un ulteriore peggioramento allora guardiamo i giornali partiamo naturalmente dal Corriere Adriatico e come sempre fa nelle sue prime pagine un focus un'ampia testimonianza della situazione nel terremoto ma il titolo di questa mattina nella pagina di apertura dell'inserto è quanto mai evocativo ed eccolo qui la vita continua dopo il terremoto si guarda al futuro prima naturalmente le scuole e i bambini e poi le imprese per poter ripartire sembra che appunto in queste ore il terremoto abbia dato perlomeno nelle sue forme più importanti come scala Richter una pausa e quindi anche in virtù di questo due scuole antisismiche a sorpresa siamo a Pesaro con le pagine del Corriere Adriatico mossa sorpresa di Ricci oltre a via la Marmora altro istituto nella zona nord della città concluse verifiche di provincia e comune dopo le superiori oggi riaprono elementari e medie quindi si torna alla normalità anche per quanto riguarda i nostri ragazzi però alcune situazioni sono ancora da definire da controllare e allora si va a Fano in via Paoli che resta transennata percorso alternativo per gli studenti in centro perché quella è una zona di collegamento tra la stazione delle Corriere e gli istituti scolastici adesso i ragazzi una volta scesi dagli autobus faranno un altro percorso comune e teatro però nessun pericolo l'aeroporto è l'area destinata alle emergenze rimaniamo nel Corriere Adriatico apriamo la pagina di Fano proprio l'inserto che riguarda Fano si terrà fra pochi giorni domani praticamente domani e sabato e domenica un importante convegno dove si farà il punto della situazione sui vaccini responsabile scientifico il dottor Massimo Agostini attuale direttore del Dipartimento di Prevenzione e Salute le vaccinazioni istruzioni per l'uso serve ampliare l'informazione perché l'area vasta 1 ha numeri da maglia nera e quindi insomma questo meeting farà un po' il punto della situazione la copertura vaccinale nella provincia di Pesorubino si attesta al 91,83% quindi insomma una grande fuga dice qui il Corriere Adriatico però insomma in attesa di sapere che cosa pensano Burioni e Abio sulla sicurezza dei trattamenti sui bambini naturalmente venerdì ci sarà questo incontro dove si terrà appunto una e più conferenze dibattiti per questa situazione cambiamo completamente argomento a Fano andiamo a Ponte Sasso dove c'è stato un dietrofront sull'area pubblica chiosco negato doppio errore residenti e investitori scontenti c'erano 5 offerte la vicenda è venuta alla cronaca qualche tempo fa era stata assegnata insomma così via si doveva costruire un chiosco per la distribuzione di alimenti e bevande in una zona verde di Ponte Sasso i cittadini sono insorti hanno parlato col sindaco e così Carla Cecchettelli è deciso di fare dietrofront sulla segnazione di questa zona quindi adesso il chiosco non si farà più però c'erano già 5 offerte pronte per cui una situazione dice il Corriere Adriatico gestita un po' così a modo di pasticcio questo è certo è che adesso in quell'area non ci sarà il chiosco per la somministrazione di bevande questo è buone notizie per gli amici degli animali a quattro zampe naturalmente si va anche in spiaggia era attesa da tempo abbiamo fatto anche qualche servizio noi quest'estate dove c'era appunto quella che era una volta la spiaggia dei cani una situazione un po' così per alcuni fruitori della spiaggia poco piacevole perché magari qualche cane così senza museruola si era avvicinato insomma una volta quella era una zona delimitata e i cani stavano in sicurezza a godersi anche loro qualche ora di mare adesso arriverà finalmente questa spiaggia all'Arzilla quasi una beauty farm per i cani perché insomma sono 50 metri lineari e non mancheranno aree destinate ai bambini e ai servizi e ai bagnanti previsti addirittura idromassaggi e agiliti agiliti dog insomma quindi buone notizie per quanti adesso vi faccio vedere la foto del anche del insomma del cane contento che un tipo da spiaggia anche lui vita da cani quattro zampe i relativi padroni aspettano l'estate 2017 e insomma qui naturalmente anche loro avranno di che gioire poi botto nella cassetta della posta è la terza volta insomma a Rosciano segnalati diversi atti di intolleranza nel parco e di insomma di ordinaria follia in alcuni casi veramente far saltare le cassette della posta con i petardi è qualcosa di veramente poco simpatico soprattutto per chi la subisce andiamo nella Val Cesano perché c'è una buona notizia per tutti gli addetti allo sport un investimento da 130 mila euro il comune di Piagge spiega il restyling del palazzetto dello sport volley e ginnastica naturalmente da promuovere questa struttura sarà il riferimento per tutto il territorio lo dice Mauro Cionna il sindaco di Piagge rimaniamo nelle pagine del Corriere Adriatico però andiamo nella vicina Senigallia si parla appunto di shopping con lo sconto e sosta gratis per un'ora queste sono una e una delle tante idee per il Natale anche un'app per rilanciare gli affari appunto in vista delle feste natalizie si comincia a delineare un po' anche la strategia dei vari comuni delle varie amministrazioni per questo importante appuntamento sia religioso che anche insomma così un po' economico e commerciale che anima i centri storici con i mercatini con le tante iniziative sempre da Senigallia rubano con l'aspirapolvere ma il colpo riesce solo a metà ladri messi in fuga da un passante si sono impossessati di 2000 euro ultima testata che vi facciamo vedere la seconda come sempre è quella del resto del Carlino vi faccio vedere la pagina di apertura dell'inserto il sisma da respiro si torna sui banchi il sindaco annuncia due nuovi istituti scolastici a pantano in legno e vismara a catabrighe però la fotonotizia è per un'altra tutt'altro stampo il comune a sorpresa annulla la fascia free dalle 13 alle 15 e quindi si paga sempre nelle zone blu tra virgolette lo facciamo per i residenti i residenti e poi giustizia per il mio figlio ucciso a 17 anni la madre di Francesco morto nello schianto contro un SUV al funerale siamo a San Giovanni in Marignano per l'ultimo saluto a questo ragazzo adeguamento sismico quindi naturalmente anche questo è un argomento estremamente sensibile in queste ore in questi giorni tutti gli edifici pubblici ma soprattutto le scuole come abbiamo visto sono state monitorate e ispezionate l'adeguamento sismico però è a metà ma alla Morselli mancano i soldi cantieri aperto nel 2014 con i fondi dell'Aquila ma poi si è arenato la provincia insoddisfatta nel piano triennale la regione ha deciso di finanziare un solo istituto superiore per provincia è passato il Battisti ancora l'arresto del Carlino Adria Bus trova chi le paga l'IVA il debito totale ammonta un milione e mezzo di euro il tribunale condanna la regione e poi ecco qui quella che vi dicevo in apertura come fotonotizia parcheggi il comune taglia la pausa dalle 13 alle 15 dice per favorire i residenti della ZTL quindi strisce blu a pagamento per tutto il giorno addio pausa pranzo e nelle pagine del resto del Carlino di Fano anche qui si parla di terremoto e di contromisura in questi giorni appunto c'è stata una pausa come vi dicevo all'inizio sulle scosse perlomeno quelle di più forte intensità ma se tornassero ecco dove rifugiarsi l'elenco dei 29 punti raccolta del piano di emergenza comunale ma è un rebus è un rebus naturalmente orientarsi in queste 29 aree allora infarto a Urbino domani l'addio ahimè un imprenditore fanese di 72 anni che si è accasciato a terra in pieno centro ecco qua lo vedete nella foto la vittima Renato Travaglini un gran lavoratore titolare di una famiglia falegnameria aveva ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro di artigiano chiudiamo con la pagina di Fano e Valcesano del resto del Carlino anche qui si va a Pergole e si parla di terremoto il bilancio delle conseguenze dopo le ultime scosse è un bilancio pesante anzi si aggrava un'altra famiglia evacuata sono 13 le ordinanze di inagibilità e cadono in tonaci anche dal comune il sindaco Baldelli dice ad oggi ricevuto 84 richieste di sopraluogo in case chiese ed altri edifici e quindi insomma questa è la coda lunga del terremoto anche a Fano ci sono diverse situazioni ancora da monitorare in piazza c'è una zona delimitata a ridosso della torre civica per una crepa sospetta insomma vedremo in queste ore quali sono le risposte che ci daranno i tecnici per queste situazioni sotto naturalmente controllo bene io mi fermo qui questa rassegna stampa di oggi termina naturalmente questa sera vi do appuntamento con Occhio alla Notizia e poi dopo un'altra puntata come ogni giovedì di Missione Salute questa sera si parlerà di ostretrice e ginecologia con il primario Cicoli naturalmente nella rassegna stampa tornerà domani mattina alle 7.30 puntualmente buona giornata a tutti quanti voi e arrivederci a domani a a a a a Grazie a tutti.